La Toscana ha bisogno che il progetto di Industria 4.0 vada avanti e cresca per rendere le aziende del territorio competitive e garantire il lavoro. Lo hanno chiesto al nuovo governo il presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori e la segretaria generale fiorentina della CGL Paola Galgani in occasione della presentazione di un libro sul lavoro 4.0 e sulla quarta rivoluzione industriale. Industria 4.0 solo nel 2017 ha portato in Italia 80 miliardi di investimenti. Hanno fatto iniziare un percorso alle aziende di digitalizzazione, quindi è stato un grandissimo stimolo e iniziare questo tipo di rivoluzione vuol dire portare il paese a un'alta concorrenzialità e a un alto sviluppo tecnologico che ha comunque sempre al centro il lavoro e la persona. Perché la sfida di Industria 4.0 è anche quella di garantire insieme alla competitività delle imprese e alla tutela dei diritti di chi lavora a partire dalla sicurezza. Su questo orizzonte si muovono industriali e sindacati in Toscana. Noi pensiamo che ci debba essere anche un lavoro 4.0 che è fatto di qualità e di diritti. Cioè noi pensiamo che la competitività di questo paese e anche di questo territorio non possa essere fatta sull'abbassamento dei diritti. E siccome siamo in un processo di grande trasformazione del mondo del lavoro, io credo che il contenuto del lavoro debba essere appunto quello della conoscenza, delle competenze e del riconoscimento dei diritti. Fattori alla base anche dello sviluppo dell'industria, manifatturiera in particolare, che in Toscana solo nella città metropolitana di Firenze vale il 20% del PIL.